Un saluto dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, ieri a Manfredonia si sono svolti i funerali di Francesco Mancini, il preparatore dei portieri della Pescara che è scomparso venerdì, noi abbiamo raccolto tutto quello che è successo ieri a Manfredonia in questo servizio. Nel suo ultimo viaggio terreno Francesco Mancini non era solo, non poteva esserlo perché quel ragazzo di appena 43 anni nel corso della sua vita si è fatto amare da tutti, indistintamente, travalicando i confini che le rivalità calcistiche impongono. Ha unito tutti i Mancini, tanto che ieri a Manfredonia per il suo funerale erano più di mille provenienti da tutta Italia, fra amici, parenti, tifosi e compagni di squadra conosciuti nel corso di una carriera che lo ha portato ad essere uno dei portieri più forti del nostro campionato. Una folla silenziosa, raccolta, ancora incredula per quanto accaduto. Nella chiesa di San Lorenzo il Pescara al gran completo si è stretto intorno al preparatore dei portieri Biancazzurro, che in pochi mesi era riuscito a farsi apprezzare e da voler bene da tutti. C'era anche il Foggia, squadra che Mancini ha aiutato a rendere grande insieme al suo maestro di vita, non solo di calcio, Zdenek Zeman, molto provato per la sua prematura scomparsa. Per il tecnico del Pescara Mancini era molto di più di un suo calciatore. Era un amico, un confidente, una persona cara, una sorta di figlio acquisito. Alla dolce compagna di una vita chiara e dai loro piccoli Francesco ed Alessandro, nessuno potrà restituire l'amato marito, l'amato padre. Tuttavia l'affetto sincero e la vicinanza di molti potrà aiutare a guardare avanti. L'ultimo volo il Mancio lo ha fatto troppo presto, continuerà però a vivere nei ricordi della gente che lo ha amato ed apprezzato ovunque stato. Ed intanto il Mancio dall'assù potrà, come gli ha detto il suo piccolo Alessandro, allenare in un posto migliore di questo. Alla dolce compagna di un posto migliore di questo. e come avete visto dalle immagini erano davvero tanti colori quali a Manfredonia hanno voluto rendere omaggio ad un grande del calcio italiano, Francesco Mancini, che purtroppo è venuto a mancare troppo presto. Tornando al calcio giocato, oggi doppia seduta di allenamento al Poggio degli Olivi per il Pescara, poi domani rifinitura sempre a Città Sant'Angelo e poi giovedì partenza alla volta di Varese con un volo lo charter per Milano. Da verificare le condizioni del mediano Mussacone che è accusato un fastidio al ginocchio e ieri è rimasto a riposo a scopo precauzionale. Per la sfida di Varese, Zeman potrà contare anche sui rientri, dopo la squalifica scontata, di Gessa e Cascione e mentre dovrà rinunciare a Zanon, piedato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto, spazio a Bocchetti, sempre in difesa, si va verso la conferma per Brosco al centro del pacchetto arretrato, in coppia con Capuano. Il Varese, dopo la sconfitta subita sul campo della Juve Stabia, è rimasto sì in zona playoff, ma ora sono in molti a braccare i Lombardi che occupano l'ultimo posto buono per disputare i prossimi spareggi promozione. Contro il Pescara, il tecnico Maran dovrà considerare diverse situazioni prima di stilare l'undici di partenza poiché oltre a Corti mancherà anche Zecchin, oltre all'ex Bari Rivas. Sta meglio invece il centroavanti brasiliano Neto Pereira, anche se in avanti a far coppia con De Luca, il ballottaggio è fra Plasmati e Granoce con il primo in vantaggio rispetto all'ex attaccante del Chievo. Ieri si è conclusa la 34esima giornata del campionato di BWIN, dunque andiamo a vedere tutti i risultati di questo turno per quanto riguarda il campionato cadetto. Ieri la giornata si è chiusa con il pareggio della Regina in casa contro il Brescia, un punto che ha avvicinato il Brescia alla zona playoff, un punto che probabilmente non cambia di molto. Le cose per quanto riguarda la Regina, qui vediamo la classifica, per l'appunto il Brescia sale a quota 50, a meno 2 dal Varese, la Regina rimane invece ferma a quota 47, a 3 punti proprio dai Lombardi di Calori. E noi andiamo a rivivere tutto quello che è successo al Granillo nel servizio confezionato per noi da Carmine Perantuono. Emozioni fino al fischio finale nella sfida fra Regina e Brescia, che al Granillo si giocavano una bella fetta di playoff. Alla fine dei giochi è venuto fuori un pareggio che potrebbe pure stare stretto alla Regina, che ha giocato per un'ora in dieci per l'espulsione di Emerson, e al 92esimo ha reclamato un rigore che poteva essere quello della rimonta, dopo che all'ultimo secondo regolamentare Bonazzoli ha impattato il vantaggio di Jonatas, approfittando di un pasticcio di Arcari in uscita. Rispetto alla squadra sconfitta a Varese sono ben sei volti nuovi della Regina. Tra i pali Belardi, il quale ritorna ad indossare la maglia Maranto dopo otto anni, subentra Zandrini, mentre in avanti Bonazzoli è assistito da Campagnacci. Alla prima vera azione della gara il Brescia passa in vantaggio con Jonatas servito da Zambelli. Per il centravanti brasiliano dei Lombardi si tratta del 14esimo centro in stagione. La partita si incattivisce alla mezz'ora e Calabresi rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Emerson, reo di un fallo cattivo su Rossi. Brescia vicino al raddoppio con Zoboli, ma il bravo Belardi è distinto a respingere con i piedi. Nella ripresa è sempre il Brescia a proporre le occasioni migliori, tanto da andare anche vicino al raddoppio. Il Carduri va via a Colombo e libera il tiro Rossi che porta vuota spedisce alto. Gregucci mette forze fresche e sostituisce Colombo per Melara e Campagnacci per Alessio Viola. Anche Calori provvede al primo cambio con Pio Vaccari al posto di Rossi. Le rondinelle non giocano mali, anzi il problema è quando si tratta di concretizzare quanto di buono fatto in campo. Tant'è che in contropiede, nemmeno in tre contro uno, il Brescia riesce a finalizzare con il Calduri che invece di passare a Pio Vaccari ha tentato il gol personale facendosi respingere il tiro da Belardi. Ancora il portiere Amaranto, grande protagonista con un intervento prodigioso sul tiro ravvicinato di Pio Vaccari. La regina cerca il pari con il cuore e ci riesce al novantesimo con l'ex Bonazzoli che si eleva più di Arcari e lo batte di testa. Nell'ultimo dei tre minuti di recupero Viola viene atterrato da De Maio ma l'arbitro non se la sente di concedere il rigore. Finisce uno a uno, un punto che forse classifica la manova meglio al Brescia e non alla regina. Anche se a conti fatti i bresciani di punti ne hanno persi due. Lasciamo il calcio giocato, apriamo purtroppo la parentesi legata al calcio scommesse. Ieri in conferenza stampa il procuratore di Bari Antonio Laudati ha fatto il punto della situazione dopo gli sviluppi legati proprio al mondo del calcio scommesse che ieri ha visto l'arresto dell'ex difensore del Bari, adesso in forza all'Atalanta Andrea Masiello e a suoi due amici complici nel servizio, il procuratore di Bari spiega la vicenda. Il sistema del calcio italiano è un sistema sano, è un sistema fatto da migliaia di tesserati, da tante squadre, da tanta gente che ci mette passione, sacrificio. L'infedeltà di qualcuno e il comportamento scorretto di qualcuno non può inficiare la credibilità dell'intero sistema. L'operazione che è stata fatta oggi è semplicemente una prima tranche, un piccolo tassello di un'indagine che è molto più articolata. Quindi il tipo di prova non è solo una prova dichiarativa, è una prova che è stata una prova documentale, patrimoniale e con riscontro per quanto riguarda gli spostamenti delle persone con i tabulari telefonici. Che è nata molto tempo fa su una segnalazione che ci fu fatta per il calcio scommesse per la partita di Coppa Italia a Bari-Livorno. Treffa il filone di indagine che si stanno sviluppando. Il primo problema è l'infedeltà di alcuni calciatori che possono mettersi d'accordo con altri calciatori o con delle persone estranee per lucrare forti somme di denaro. La seconda interferenza è gli scommettitori, soprattutto esteri. Il terzo, quello che per noi è più rilevante, è il ruolo della criminalità organizzata per quanto riguarda il sistema delle scommesse. Il nostro filone di indagine riguarda esclusivamente il Bari. Questo filone riguarda, questa misura riguarda il primo filone, cioè il ruolo dei calciatori nelle scommesse e questo filone riguarda solamente una primissima tranche che è strettamente collegata a delle documentazioni che ci aveva trasmesso la procura di Cremona. Ne abbiamo selezionate semplicemente 4 o 5. Sono tutte partite di serie A, sono partite che sono andate su due stagioni, sono delle partite su cui l'alterazione del risultato, perlomeno da quello che risulta fino adesso, al nostro giudizio, è ampiamente provato. Questa tranche credo che nel giro di pochi giorni sarà chiusa e quindi mano a mano che le tranche saranno definite in via giudiziaria, saranno poi passate alla procura federale per le attività proprie. Insomma, vedremo cosa accadrà, poi ci sarà anche da vedere quello che succede invece dalla procura di Cremona, dove sono attesi ulteriori sviluppi. Tornando al calcio, questa volta di casa nostra, è iniziato con un pareggio il torneo delle regioni 2012 per quanto riguarda l'Abruzzo. Per la rappresentativa abruzzese, Abruzzese ieri in Basilicata, i ragazzi di Luigi Iervesi hanno concluso sull'1-1 il match inaugurale contro l'Umbria. A fissare il risultato sulla parità ci ha pensato l'ex attaccante del Sulmona, William Pizzi, in procinto di approdare al Pescara, che sul rigore ha annullato l'iniziale svantaggio. Oggi i ragazzi di Iervesi di nuovo in campo, alle 16.15 a Montalbano Ionico, si gioca contro il Veneto, che è in testa al girone dopo aver battuto 2-1 la Calabria. Per quanto riguarda il calcio a 5, cambiamo dunque disciplina. Oggi si gioca l'ultimo turno infrasettimanale per quanto concerne la stagione regolamentare. Il programma della 24esima giornata del massimo campionato di calcio a 5 sarà aperto dalla Ponzio Pescara, che al Palarigo Piano, calcio di inizio fissato alle ore 20, contro il già retrocesso Augusta, cerca punti preziosi per staccare il visto per la qualificazione e play-off Scudetto. Pratica già sbrigata dall'acqua e sapone e messa al sicuro dai nuovi punti di vantaggio rispetto al Bisceglie. Per gli angolani l'avversario di turno al Palacastagna è la Luparenze. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione della Notizia Sport. A me non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo spazio informativo con lo sport firmato dalla TV dell'Adriatico. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.